Le parole gliele facciamo vedere, prego! Se vuoi essere ripetitivo mi pare che non paggo fuori l'uomo, comunque voglio proprio approfittare di questa situazione perché i piscatole non mancano mai, adesso avete capito perché ho lasciato la posta, perché non ne potevo più. No, giustamente, a parte gli scherzi ne approfitto per ringraziare, anche se non sono presenti, vista la mia libertà provvisoria, diciamo, dalla polisportiva, anche se da una porta sono uscito e da un'altra mi hanno fatto rientrare, quindi non è che abbia guadagnato non so che, tutto per colpa del Presidente o del Vicepresidente. Comunque ringrazio molto tutti quelli che hanno avuto modo di collaborare con noi, sia gli sponsor che i tifosi abbonati, ma soprattutto voglio ringraziare i giocatori. I giocatori che secondo me, specialmente nel settore giovanile, è stata una grande evoluzione, insomma, mi hanno dato grandi situazioni, hanno dimostrato un po' carattere che sicuramente avranno capacità di dimostrarne ancora di più, vista la loro maturazione, la loro esperienza, siamo convinti che quest'anno, nei prossimi anni, riceveremo delle gratificazioni importanti. Ringrazio sicuramente tutto il Direttivo che mi ha sostenuto in questi tre anni, in questi ultimi tre anni, perché poi non torniamo indietro nelle vecchie aglorie, perché sennò diventa un po' troppo lunga e questi non vogliono che io allunghi molto la discussione, ma serve anche questo per chiacchierare e allungare questa sera la serata. Magari avere anche i voli di conoscerci meglio, saluto in particolare De Lung, insomma, che ci ha gratificato di questa sua presenza per collaborare con la Polisportiva. Ringrazio sicuramente tutti quelli che hanno avuto piacere di farne parte, spero che sia un campionato molto allegro, anche virtuoso e soprattutto per quanto riguarda i giovani, nello spogliatoio, mi raccomando ragazzi, cercate di essere allegri, uniti e difendenti, fate gruppo, fate, perché quello d'altronde è importante, perché quando c'è gruppo e c'è solidarietà fra di voi, sicuramente arrivano anche i buoni risultati. L'importante è essere sereni, esprimere nel miglior modo possibile e sicuramente vi divertirete voi, noi e il pubblico e gli sponsor. Grazie e auguro e alla prossima.